Ciao a tutti, come state? Bene, va bene. Allora ragazzi, oggi vi spiego come risolvere l'errore Valorant del codice 1067. L'errore TPM che esce sempre all'inizio, quando avviate il gioco oppure quando installate o aggiornate il gioco. Quindi, cosa bisogna fare? Questo è il dannato errore che mi ha dato ieri, che mi ha fatto impazzire. Quindi, cosa ho fatto? Sono andato sul BIOS della scheda madre e ho visto che era attivo perché io già l'avevo attivato. Perché per passare a Windows 11 bisogna attivare questo TPM 2.0. E cosa ho fatto? Sono andato sul BIOS, l'ho disabilitato e l'ho riabilitato di nuovo. Poi ho riavviato il sistema, ho disinstallato Valorant del tutto, ma proprio del tutto, tutti i file l'ho disinstallato. Quindi cosa ho fatto? Ho rimosso qualsiasi cosa, ho spento il PC, poi l'ho acceso, l'ho riavviato. Quindi, mi raccomando, segnatevi ogni passo che ho fatto, perché è molto importante. L'ho riacceso, l'ho riscaricato in dieci minuti, l'ho aperto e indovinate un po', è andato. Si è aperto da solo, senza nessun errore. Vabbè, poi adesso accedo alle mie credenziali. Datemi solamente un minuto per spiegarvi come ho fatto e poi passeremo direttamente alla guida, alla pratica, per farvi capire cosa ho fatto. Quindi, aspettate un attimo. Ah, quindi ragazzi, adesso Valorant va, quindi mi adesso chiudo Valorant e andremo direttamente sul BIOS dove vi spiegherò cosa dovrete fare. Quindi, una volta fatto, riaccendiamo il PC e non dovrebbe più dare quel problema del TPM perché ormai l'abbiamo abilitato. Quindi ragazzi, noi ci vediamo sul BIOS. Facciamoci un bel giretto, dai. Ok ragazzi, siamo nel BIOS della scheda madre, adesso vi spiego cosa dovete fare. Allora, andiamo su settings, allora faccio così, andiamo su settings, security, trusted computing, eccolo qua. Ok, qui ci sarà disable, enable. Quindi abilitate questo TPM, dove, 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 eccolo qua, pure questo TPM disabilitato, abilitato, ok. Perfetto, ok, abbiamo abilitato il TPM e adesso premiamo F10. E salviamo il nostro settaggio e riavviamo così il PC. Ok, adesso, se non ci credete, perché molte persone dicono che certi tutorial sono inutili, altri non funzionano, dipende dal vostro sistema, dal vostro PC. Non abbiamo gli stessi PC, lo stesso sistema, è ovvio. Quindi, abbiamo riavviato, abbiamo risolto, abbiamo abilitato il TPM, abbiamo tolto di mezzo quell'errore del codice 1067 e adesso vado ad avviare Valorant. Per la decima volta. Ok, 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 non uscire quell'errore, non farlo uscire. Ok, 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 è andato, è andato. Quindi, grazie a tutti per questa visione, lasciate like e iscrivetevi. Ah, finalmente. 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 Grazie. Grazie. Grazie.